E' venuta questa stronzata della speranza. Intanto stanotte comincio a portare le altre due, che se no le cose non vanno bene. Domani aspetto la terza. Sacrifica! Sei l'unico essere umano che conosco. Se va avanti vuole partorire, è probabile che muro. Questa mi serve. E' mia. Il dottor qua ti aveva sempre detto che eri inutile sperare, invece... Tu perché non chiudi il cesso? Perché io non tengo nessuna intenzione di abortire. Lei tu mi uccide? A me nessuno mi uccide. Ma quello che facevo prima non lo posso fare più. E' ancora a tempo. E' ancora a tempo. Rindo con. Ecco che uno devo bene e basta. Ma è una brutta fine. E quando vero non c'è sta ritorno. Il bene dei figli sono le mamme. Ecco che cosa muore ma resta. Resta. Un bello giorno. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!